E' Roy Paladini il vincitore d'Italia Quali 2023, nello show di Carlo Conti porta in modo garbato e straordinario, anche speciale, il grande Michael Jackson. Il concorrente arriva al secondo, nella terza puntata di quest'inizio d'Italia Quali, trionfa però nella parte finale della setica, presentandosi proprio a Rai Uno con queste imitazioni di bellezza e di fascina completo di Beat It, un famoso brano del grande Michael Jackson, datato in 1983. Secondo posto, medaglia d'argento per Francesco Pasculli, che interpreta il ruolo di Luciano Milabue. Terzo posto, in medaglia di Brondi, invece per Michele Carovano, che va a interpretare Basco Rossi, in modo anche abbastanza piacevole alzato a piede e coinvolge comunque se stessi in questo modo di essere di fai, che comunque non mi spiace. Andiamo a vedere un attimo la classifica finale. Primo, dunque, Rai Pallini, Melo Jackson, 80 punti in totale. Secondo, Francesco Pasculli, un gioco di Giavo, 78. Michele Carovano, che fa Vascolo Rossi, 68. Federico Serra, che fa Bocelli, 66. Martina Caccio, che fa Massimo Londra, che fa Fausto Oliari, 61. Roberto Romanelli, che fa Ivan Graziani. Ulvio Cerulli, che fa Piero Perù. I Monskin, che poi ovviamente internappi per le mani, schifo, 52 punti. E poi, nel penultimo posto, Paolo Antonio, Cirilli, Gisela Mangiore, Cristina. E poi, Davina, con 31 punti. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e il video terminato qua. Complimenti di non partare qua, dovete ripetire. Complimenti al buono. Poi, Pallini per la vittoria. Ciao, un altro altro video.